si fa anche l'appoglio da figa eh si toccati il culo la pattacchie a me me l'hanno fatto tante volte in che posto sei andato te? no metti sul boccone dai dai su grazie grazie ciao grazie 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 Ecco, dai, dai, dai. Ecco, dai, dai. Fa' vedere un bel boccone, dai, con le tagliatelle. Così, così. E' sconto, non ce l'ho andato. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Che schifo. No, perdi le creste. Che viene il bacino. Aspetta, passa. Va via il bacino. Aveola questa. La frutta la voglio, ti puoi muovere, non mica una foto Il cretino di faccia è sempre dappertutto Ma a me io l'hai fuori testo Prendete il culo mio Il culo, prendete il culo Mangi sempre, eh mamma Girati, girati Prendete il culo mio Cosa che fa le donne? Dai il cretino Vedi? Vedi? Dai un pochino! Faccimi l'ordine! Ecco! C'è... Sì... 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 Che bello che hai vinto i bambini a chiari! Che lei non sono stato io! Dario che cazzo ho messo io! Mi a terra! Cosa c'è il bambino? Non lo so! Ah non lo so! Dite! Mi sto passando di sì! Eh! Tira, tira fuori i bambini! Non lo so! Non lo so! Poi vedere il pistolino! Poi vedere il pistolino! Non lo so! Si! Non lo so! Ma che cosa venga? L'espo' va! Grazie. Mamma basta. Basta. Grazie. 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 Noi abbiamo fatto. Ma che fatto tutti noi? Mio, prova a sentire se c'è ancora. È così. C'è? C'è? Dio, ma come grossa. Quando vedo piantella me lo impulo. Allora, siete collegati con il conistro. Noi. 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 Papà, papà. Papà, papà. Attenzione. Vieni qui. No. Nieschi. Ma papà, io che cazzo c'entro, Dio? mi sono sporcando dal sole vieni qui, vieni qui Piantella, primo piano guarda lì benissimo qui fa scusa, primo piano a Luca adesso a Luca, a Luca c'è Gino, c'è Gino Gino, primo piano primo piano, primo piano sono le donne ecco, guarda qui Gino come ti è sembrata la torta? in faccia scusa, fai vedere il neon che è nella faccia di torta Dio, buono che qua, non puoi parlare ah, sì, perché c'è siamo riduci dalla battaglia dalla battaglia di Bigno no, perché tu devi capire di Sant'Anore volevo far papà Piantella buonasera come dice uno a Bartolomeo è meglio dirlo oggi che è un piro a calca questi sono i programmi di teleletto stai male tu si dà sono il nasino scusa ma perché, cosa? no, metti di profilo c'è la torta grazie signore avrei un po' più bisogno oh, volevano far papà a Piantella a Piantella a Piantella no, no ti si attacca una cresta Dio, buono spogliamo, dai se non era messo così a Piantella spogliamo Piantella, dai facciamo papà Piantella facciamo papà Piantella lo portiamo lì nel campo lì 40 anni che fanno, che fanno da questa parte facciamo papà Piantella spogliamo Piantella o direte anche cosa volevi dire? dai, dai giù col culo dai, dai, dai sono bene stai scendo facciamo papà Piantella quanto ci danno? non lo so è da ricerche perché è tanto è tutta la Piantella è giunta pregata in quadri che stava a Piantella e poi in quadri che c'è un risotto pazzesco